Ieri erano 129, oggi 123. 118 pazienti sono all'ospedale di Sestri Levante, 4 dei quali in terapia intensiva e 5 all'ospedale di Lavagna. Le sorveglianze attive nel territorio dell'ASR4 oggi sono 623, come ieri. Per quanto riguarda in generale la Liguria, oggi sono 1172 nuovi casi di persone positive al coronavirus, su un totale di 7.022 tamponi processati, 3.513 dei quali di tipo diagnostico. I guariti sono 769, il totale degli attuali positivi sale a 17.517. Scende anche in questo caso il numero dei ricoverati positivi negli ospedali della nostra regione, oggi sono 1.407, 72 in meno di ieri. Di questi, i 92 sono in terapia intensiva e da domani la Liguria entra ufficialmente in zona arancione. Oggi sono 102 nuovi positivi nel territorio dell'ASR4. Sempre nel Tiguglio i ricoveri diminuiscono. Oggi sono 123, ieri erano 129. 118 pazienti sono all'ospedale di Sestre Levante, 4 dei quali in terapia intensiva, e 5 al nosocomio di Lavagna. Le soveglianze attive, sempre nel territorio dell'ASR4, oggi sono 623, come ieri. Per quanto riguarda in generale la Liguria, oggi sono 1.172 nuovi casi di persone positive al coronavirus, su un totale di 7.022 tamponi processati, 3.513 dei quali di tipo diagnostico. I guariti sono 769, e il totale degli attualmente positivi sale a 17.517. Il numero di ricoverati positivi negli ospedali della nostra regione scende. Oggi sono 1.407, 72 in meno di ieri. Di questi, 92 però sono in terapia intensiva. Due decisioni diverse nel giro di pochi giorni lasciano perplessi. A Diodo, il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti, a seguito della decisione del governo di far diventare la Liguria zona arancione, provvedimento che scatterà domani. La pressione sugli ospedali rimane forte, questo può aver influito, ha aggiunto il governatore, che si augura che le due settimane possano servire a raffreddare la situazione, consentendo alle nostre attività di riprendere a pieno regime nel periodo prenatalizio. Sul divieto di uscire dal territorio comunale, Totti fa una precisazione per i residenti dei comuni più piccoli, dove gli esercizi commerciali non sono sufficienti, dice. Gli spostamenti nei comuni vicini sono considerati necessari e quindi sono autorizzati. Anche gli olivicoltori liguri potranno continuare a svolgere la loro attività all'interno del territorio regionale. A Dioli in questo caso è Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria e assessore all'agricoltura. Chi si dedica alla cultura delle olive, anche a livello obbistico, dice, potrà inoltre recarsi ai frantoi per produrre olio dal proprio raccolto. Questo vale anche per i proprietari di orti, per chi non detiene patitaivo o non svolge attività agricola a titolo principale. Si è svolta questa mattina la manifestazione in piazza Nostra Signora dell'Oltra a Chiavari organizzata dai sindacati USB e CGL e degli operatori dell'ASR4, che poi hanno incontrato a Palazzo Bianco l'assessore alla Sanità del Comune di Chiavari e il presidente della conferenza dei sindaci Giuseppe Corticelli. I rappresentanti dei lavoratori dell'ASR4 mi hanno palesato le diverse esigenze del personale sanitario legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, racconta Corticelli, dalla necessità di potenziare l'organico con nuove assunzioni, all'estensione delle indennità per malattie infettive, ad una maggiore trasparenza sugli operatori contagiati, indicandomi inoltre le possibili criticità che potrebbero emergere all'interno delle strutture RSA, anche in conseguenza di specifiche indicazioni di Alisa. Come presidente della conferenza dei sindaci, conclude Corticelli, porterò queste problematiche alla conoscenza dei comuni aderenti all'ASR4, riunione che convocheremo in tempi ristretti. Esprime soddisfazione il consigliere regionale di Faso Italia Claudio Muzio per l'accordo che Regione Liguria ha raggiunto con pubbliche assistenze e croci rosse per l'assegnazione di misure straordinarie a fronte dell'emergenza coronavirus. Il testo stabilisce che le ASL provvedono ad erogare alle pubbliche assistenze una quota straordinaria di rimborso pari a 8 euro, in aggiunta a quanto già previsto per ciascun servizio di trasporto sanitario non urgente, ordinario ed ospedaliero, effettuato nel primo semestre del 2020. A partire dal 1 marzo 2020, l'importo riconosciuto come rimborso fisso per ciascun intervento di emergenza e urgenza sarà pari a 47 euro. L'ulteriore quota di rimborso fisso per ogni ora di impiego dei mezzi di soccorso successiva alla prima resta quantificata in 31 euro, così come resta invariato il rimborso chilometrico. 5 nuo eletti consiglieri regionali della Liguria stamani a Genova a inizio seduta si sono dimessi per assumere a tempo pieno l'incarico di assessore regionale come richiesto dal presidente Giovanni Totti. Si tratta dell'ex presidente del Consiglio Alessandro Piana che gestirà la delega all'agricoltura e ai parchi, di Giacomo Giampedrone, a cui sarà affidata la protezione civile, a Marco Scaiola, che andrà all'urbanistica, a Gianni Berrino, trasporti e turismo, a Ilaria Cavo, cultura e formazione. Le loro dimissioni e la relativa surroga sono state approvate dall'assemblea con 18 voti favorevoli, l'intero centrodestra e 12 contrari, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Subentrano in Consiglio regionale 5 nuovi consiglieri Mabel Riolfo, Lega, Daniela Menini, Cambiamo, Chiara Cerri, Cambiamo, Veronica Russo, Fratelli d'Italia, ma soprattutto il fontanino Giovanni Boitano di Cambiamo. Una scena che non ci aspettavamo, le dimissioni in massa di 5 consiglieri regionali che sono andati a ricoprire il ruolo di assessore per ragioni che non sono l'efficienza del sistema ma ragioni di composizione politica, comenta il capogruppo PD Luca Garibaldi. Un'operazione che comporta una caduta di credibilità delle istituzioni e aumenta i costi della politica, vale circa 600 mila euro all'anno in più in un momento delicato. Sdoppiare il ruolo tra assessore e consiglieri è una decisione annunciata in campagna elettorale a cui il 57% dei Liguri ha dato fiducia, replica Toti. Sono due le ragioni importanti che la motivano. Aumenta l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, consentendoci di usare al meglio le risorse che abbiamo. Inoltre è una questione di equilibrio democratico. Dimettendosi da consiglieri, i nuovi assessori, sostiene Toti, fanno sì che la giunta non sia predominante sulle decisioni del Consiglio. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è incontrato nella presentanza dei tassisti ruentini per fare il punto della situazione sulle caratteristiche del bonus regionale per il trasporto in sicurezza degli anziani con più di 75 anni o delle persone affette da malattie rare con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% e donne in gravidanza. Gli interessati potranno presentare domanda fino al 31 dicembre. Agli aventi diritto sarà consegnato una carta prepagata da 250 euro che potrà essere utilizzata sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente. Il limite di utilizzo per ciascuna corsa è pari a 30 euro. Con un ultimo arresto si è conclusa l'operazione Villa Rocca condotta dal commissariato di polizia di Chiavari e coordinato dalla procura di Genova per contrastare lo spaccio di droga. L'operazione era partita con l'arresto di un uomo di nazionalità pakistana durante il primo lockdown. Il giovane era stato arrestato all'interno del parco di Villa Rocca dove spacciava marijuana, cocaina e hashish. A seguito di quell'arresto diversi minorenni erano stati convocati in commissariato e nel corso dell'indagine così è messa all'esistenza di una rete di spaccio gestita da due cugini di nazionalità marocchina e da un albanese. L'operazione ha portato a tre arresti in flagranza di reato a quattro richieste di custodia cautelare da parte dell'autorità giudiziaria a dodici denunce per il reato di spaccio e a ventiquattro segnalazioni amministrative a carico dei consumatori. I poliziotti del commissariato di Chiavari ieri sera hanno dunque arrestato nel capoluogo Ligure uno dei due cugini marocchini che nei scorsi mesi si era nascosto addirittura in Veneto. Buonasera a tutti il ministro della salute e speranza mi ha chiamato per comunicare la decisione del governo di inserire una serie di regioni tra cui regione Liguria nella fascia cosiddetta arancione delle limitazioni insieme a noi la Toscana l'Umbria l'Abruzzo la Basilicata e poi altre regioni come l'Alto Adige che si è già dichiarata zona rossa e poi ovviamente guarderemo e vedremo anche decisioni che riguardano altre regioni. In questo momento non è il momento di polemizzare credo che sia il momento di rimboccarsi tutti quanti le maniche anche quei sacrifici di cogliere il grido di dolore che arriva dai nostri ospedali e dai nostri luoghi di cura dove come sapete i medici gli infermieri hanno chiesto più volte delle misure più rigorose per rallentare gli arrivi negli ospedali che anche oggi ci sono evidentemente stati i dati non sono peggiorati forse sono lievemente migliorati ci auguriamo che queste due settimane insieme alle misure aggiuntive possano effettivamente raffreddare la situazione e quindi consentire anche alle attività economiche del nostro territorio di tornare a lavorare nella pienezza delle loro funzioni ovviamente in tempo per il momento più importante economicamente quello del Natale ripeto non è una decisione che abbiamo preso non è una decisione su cui conosciamo tutti i contorni perché la decisione è stata presa a livello tecnico con l'applicazione dell'algoritmo che divide l'Italia in tre zone di cui non conosciamo i pesi le misure le ponderazioni in ogni caso ritengo che in questo momento anche per chi amministra localmente eppure essendo una decisione non presa qui il criterio elementare di prudenza in questo caso ci consigli e ci comporti evidentemente di evitare ogni discussione ed applicare ovviamente le regole che sono date le regole lo ricordo per la zona arancione sono vietate per le prossime due settimane a partire da domani gli spostamenti tra regioni e comuni se non per comprovate esigenze di lavoro salute necessità ad esempio rientra il proprio domicilio e residenza con l'autocertificazione e ovviamente per i comuni piccoli dove non vi sono esercizi commerciali che vendono determinate prodotti o merciologie o non vi siano i supermercati dove poter fare la spesa ovviamente si tratta di una necessità e quindi è autorizzato chiudono i bar e i ristoranti anche a pranzo dove erano rimasti aperti è consentito solo l'asporto fino alle 22 quindi potranno restare aperti e si potrà andare fino alle 22 ora in cui scatta diciamo il divieto di circolazione a ritirarsi il proprio cibo come ormai molti sono abituati ad andare a fare o comunque per l'intero corso della giornata la consegna a domicilio ovviamente le scuole superiori passano tutte in didattica a distanza resta ovviamente ma c'era già nella fase gialla il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5 salvo a Genova che come sapete questo divieto scatta dalle ore 21 sono chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e vengono chiuse ma non erano già mostre, musei cinema, teatri sale scommesse piscine e palestre queste sono sostanzialmente le differenze tra l'area gialla in cui eravamo inseriti o siamo inseriti fino a domani e l'area arancione ecco vedete le misure diventano via via più restrittive qui è vietato spostarsi in entrate e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro salvo comprovati motivi di lavoro studio salute necessità e da un comune all'altro ci si può comunque spostare per soffrire di servizi di attività non disponibili nel comune di abitazione o di residenza e anche in questo caso raccomandiamo di evitare spostamenti che non siano necessari nel corso della giornata attenzione in queste regioni chiudiamo anche bar e ristoranti sette giorni su sette che possono però operare per l'asporto fino alle ore 22 mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni ancora a queste regioni si applicano le regioni arancioni le seguenti misure previste anche per quelle gialle le indico per maggiore chiarezza di chi ci sta seguendo giorni festivi e prefestivi chiudono negozi all'interno dei centri commerciali sempre ad eccezione di farmacie parafarmacie generi alimentari tabacchi ed edicole chiudono anche mostre e musei anche qui è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado fatta eccezione per studenti disabili in caso di utilizzo di laboratori le lezioni in presenza rimangono per le scuole dell'infanzia scuole elementari e scuole medie le attività didattiche e le università si svolgeranno anche qui necessariamente a distanza salvo che per le matricole e per attività di laboratorio e ancora sono sospese tutte le prove preselettive le prove scritte che si svolgono in presenza per concorsi pubblici e privati per abilitazioni professionali con alcune eccezioni come i concorsi le abilitazioni di medici operatori sanitario della protezione civile e anche qui per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50% fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico anche qui sono sospese le attività riguardanti scommesse giochi videogiochi anche nei bar nelle tabaccherie e continuano a rimanere chiuse piscine palestre teatri cinema mentre rimangono aperti i centri sportivi previsioni per domani mercoledì 11 novembre al mattino cielo solleggiato progressivo aumento della nuvolosità a carattere irregolare a partire dal levante e in estensione al resto della regione nel pomeriggio venti tra deboli e moderati da nord sul settore centrale deboli variabili o a locale regime di brezza altrove mare poco mosso umidità su valori medi le temperature previste sulla costa tra 11 e 19 gradi nell'entoterra tra 6 e 21 gradi a 來了 a a a o a a a a a a Grazie a tutti.